3, 2, 1 3, 2, 1 Gara sui 2000 metri con cambi di leader squadre fortissime per tutti gli appassionati non vino a guardare il pubblico le potenzialità di questa grandissima macchina 5, 4, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 1 e in testa gli orzò forzò seguiti dall'infeo per il nuovo in di trento a seguire la sprint boys in terza posizione e sempre in testa gli orzò forzò seguiti dall'osso seguiti dalla pro squad light a seguire la sprint boys in terza posizione e sempre in testa gli orzò per il nuovo in di trento e sempre in testa gli orzò per il nuovo in di trento e sempre in testa gli orzò per il nuovo in di trento metri, metà gara, sempre nella stessa posizione, e sempre gli allzone forzone seguiti dalla cross for light, in terza posizione gli spring boys, i primi stanno viaggiando nella media di 1,25 e 7, la scroll light 1,25 e 4, palma 1,31, grandissime le medie di questi nostri atleti, e siamo agli ultimi 500 metri di gara. E siamo agli ultimi 250 metri per tagliare questo fantastico traquato. E sempre in testa gli allzone forzone con 1,26 di media. E l'Italia con l'entraguardo, lo sono forzato, la cross for light. E la screen boys. E la project team di Roma. Vi ricordo che dopo queste bellissime staffette vi aspettiamo per la seconda parte di questa grande competizione con i mille metri in funzione di indoor low wing, con Francesca.